Ciao a tutti ragazzi e bentornati ad una nuova puntata di LSTG Il notiziario del tifoso Number 2 Number 2, la seconda puntata Esatto, ci piace questa cosa, la continueremo a fare Quindi abbiamo deciso Parliamo subito di quello che è successo nell'ultima giornata di campionato Vado a dire la vittoria della Lazio contro l'Atalanta per 3-1 Dopo la sconfitta arrivata in Coppa Italia Siamo presi questa maledetta vendetta Proprio quello che volevamo Prima di dire quello che pensiamo Facciamo vedere cosa pensa la community di Youtube Nel servizio di Gianni Vai Reggi Vittoria che ci porta al quinto posto Sopra l'Atalanta Sopra all'Atalanta Ma Gasperini Ti piace il ballo del pirata? Gasperino Non si vede ma ho indicato proprio quello Sei troppo simpatico Gasperini Sei troppo simpatico però oggi te ne vai a casa prendendo tre pere Tre pere Fallo de mano Piede sto fallo de mano a casa Gasperini Gasperini Oggi ti puoi attaccare solo al sole per non dire altre cose Poco eh? Ogni tanto un pochino Gasperini lo vedi questo? Tre pezzi nel culo Gasperini Gasperini Qua te asciuga un po' le lacrime Te do un fazzoletto Dai mi dispiace Trofei Da mettere in bacheca Ovo La rosicata di Gasperini per la partita di oggi Vi devo dire la vittoria Più grande che potevamo ottenere oggi Che caccio è l'equilibrio Una volta chiacchieri una volta taci Ci vuole classe nella vita Ci vuole stile Nella davanta zero Ciao Ebbene sì Ebbene sì Come dice il signor Campanile C'è chi c'ha stile E c'è chi no Nel post partita Gasperini Ha riacceso questa fantomatica rivalità fra le due squadre Esatto esatto Continuando a dire Che noi Arriviamo Quasi sempre sotto di loro Duarte Esatto Non facciamo i calcoli Che ha fatto anche Il signor Bartocci da New York Noi ci limitiamo a essere appunto eleganti Come Farris Che appunto Intervenendo nel post partita Al posto di Inzaghi Che non ce la fa più a parlare Ha detto Boh loro sentono questa rivalità E sarà rimasto qua sul gruppone Questa coppia Italia Che è in bella mostra a Formello Mi sa Non so sicuro Ma può essere che Farris C'ha ragione Esatto esatto Guarda Finalmente possiamo dire Basta con Gasperini Per questa stagione L'ultima cosa con l'Atalanta Vogliamo dire La primavera Che non vinceva da un bel po' Ha vinto 3 a 0 Contro l'Atalanta Andiamo avanti Come direbbe qualcuno E parliamo del signor Claudio Lotito Che paga gli stipendi In anticipo Ha pagato ben due stipendi Si dice Fevrai E marzo Esatto In anticipo E arrivando a Formello Insomma Tutti hanno fatto l'applauso Applausi scroscianti Grande festa Alla corte di Francia Come lei di Oscar E quindi Pare anche che lui Si sia commosso Vediamo qui Un'immagine Lotito Che piange Eppure C'è chi vuole sminuire Queste operazioni Di Claudio Lotito Dicendo che Appunto Abbiamo fatto Questi pagamenti In anticipo Dello stipendio Per avere Delle agevolazioni Per quanto riguarda Il pagamento Dei contributi E sicuramente Questo è vero Però sono accuse Che vengono sempre Dai soliti giornaletti Insomma Che sappiamo E sappiamo E sappiamo che Lotito Appunto C'ha l'occhio Fino Per queste Sottigliezze Economiche E finanziarie Però sappiamo anche Che tante società Di serie A Non riescono a pagare Gli stipendi In questo In questo momento C'è qualcuno Che naviga In acque Finanziarie Cattivissime Chissà Se riesceranno a pagare Esatto Intanto Lotito Ha fatto il suo E ha fatto anche Insomma Un gesto Simbolico Ha raggiunto anche Dei bonus Per i calciatori A raggiungimento Di qualche obiettivo Uno di questi Piazzamento Champions League Quindi Secondo me Qui Non c'è nulla Da ridire A Claudio Lotito E su questa frase Ti passo la palla Grazie Se ringrazio molto Io volevo Lanciarvi una piccola Provocazione A voi Telespettatori Secondo voi Claudio Lotito Può essere definito Adesso Come il miglior Presidente Che ha avuto la Lazio Ovviamente Escludendo Cragnotti Che ci ha regalato Tante gioie Vabbè Stotto a cappiano Non so Però Secondo voi Che ne pensate Scrivetecelo qua sotto Nei commenti Esatto Scrivete un po' Che pensate voi Di Claudio Lotito Perché sappiamo In realtà Che insomma Non è proprio ben visto Per usare un omofimismo Dalla tifoseria laziale E non solo Anche all'interno Della Lega Insomma Tutte le varie cose Che sapete bene Però Dati alla mano Claudio Lotito È uno dei presidenti Più vincenti della Lazio Ha preso una società Che stava fallendo E ha mantenuto Appunto Il nome della società Non c'è stato un cambiamento Del nome come È successo al Napoli O altre squadre La Fiorentina Non siamo rimasti SS Lazio Come Quando siamo Lo stesso nome Di quando siamo stati Fondati E ci ha messo Insomma Del suo Sappiamo insomma Di vari magheggi Che ha fatto Però appunto Dicevo Carte alla mano Conti alla mano E le coppe Le coppe le amarzate Ci stiamo togliando Le soddisfazioni Sembra Che siamo in continua Evoluzione Speriamo In crescita Speriamo che Posta per il futuro Vada sempre meglio Esatto Io non so dove schierarmi Comunque voi Fateci sapere Che ne pensate Tornando alla primavera Della Lazio La notizia della settimana Che è rimbalzata un po' Dappertutto Sui social Ho visto un sacco di persone Schierarsi da una parte O dall'altra È stata comunque L'acquisto di Mussolini Romano Mussolini Il figlio di Alessandra Mussolini Esatto Figlio di Alessandra Alessandra Ricordiamo Nipote Di Benito Mussolini Quindi A parte già far ridere Il fatto che lui Abbia tenuto Il cognome della madre E far ridere Bisogna dirlo Far ridere Il fatto che la Lazio L'abbia L'abbia comprato Soprattutto con le voci Che ci sono Sulla tifoseria L'ha comprata la Roma Esatto Infatti questo Ci voleva arrivare Perché questo ragazzo È stato un po' Diciamo Messo in mezzo All'occhio del ciclone Questa settimana Perché è andato A giocare alla Lazio Però Questo ragazzo Prima si chiamava uguale E giocava alla Roma Io non si era mai sentito Qualcuno dire Oh magari Gioca Mussolini A Roma No E quando però Ha fatto il passaggio Alla Lazio Questa cosa Ha avuto risalto Fa un po' ridere Ripeto Però con questa ragazza Di 17 anni Io spero sia veramente forte Sinceramente Perché Non lo so Oppure comprare un altro Magari Non so Nipote di Berlinguer Fai a questo punto Esatto Così per Mettere un po' così Per par condicio Per inchiepitire la questione Romano Ti salutiamo Avrebbe da dire Ma non si può dire Il secondo Ma passiamo ora Al calcio mercato dei grandi Sapete che pochi giorni fa È terminata La sessione di calcio mercato Invernale Una sessione di mercato Scoppiettante Vero? No Invece no Invece no C'è chi l'ha definito Il calcio mercato Più brutto della storia Quello con meno movimenti Sappiamo La situazione Economica e finanziaria Di molte squadre E il Milan ha fatto qualcosa di interessante Il Parma Anche diciamo E il Cagliari Due e due accomunate Nella posizione in classifica Diciamo Molto al di sotto Delle aspettative Però noi vogliamo parlare Di Lazio Quindi che è successo In casa Lazio Lazio ha acquistato Matteo Musacchio Esatto Lo sapete già tutti Ne abbiamo già parlato La settimana scorsa Ha già esordito Tra l'altro È entrato Durante la partita Contro l'Atalanta Al posto dei Patrick Che litigava con Gasperini Esatto E Prestazione buona E insomma Abbiamo visto solo mezza partita Però sembra un calciatore Che sa fare il suo mestiere È un po' legato Quello sicuramente Esatto Ancora un po' legato Perché tanto non scendeva in campo Però insomma Siamo fiduciosi Invece il mercato Diciamo è stato fatto In uscita Perché poi Prima E fortuna direi Esatto E poi vabbè Andiamo a vedere appunto Prima sono rientrati Dai vari prestiti A De Canie Minala Guerini E basta A De Canie È stato rimandato in prestita Alla Totenag Abbiamo detto anche questo Ma cosa c'è di nuovo Che Vavro Vavro è stato ceduto Finalmente Qualcuno se l'è preso L'Uesca In Spagna Quindi prestito Per Denis Vavro Speriamo che riesca a fare qualcosa Come ho detto nella sua storia Speriamo che Riuesca A giocare Scusate Esatto Di Gennaro Regà Di Gennaro Incredibile C'è andato sto fenomeno Io mi ero Qualcuno l'ha detto in live Io pensavo che Non c'eravamo più Non c'eravamo più Perché sì È andato appunto Al Cesena Al titolo definitivo Quindi mi spiace per lui Rimani in serie C E stessa cosa Vale per Caro Ragazzo ex Primavera Stai a parlare Il grande Irreprensibile Dormisi Esatto Invece Dormisi E Kine Sono andati In prestito Alla Salernitana Per chi ne Insomma Io sono ancora Speranzoso Dormisi Dopo la prima partita Sei infortunato Lesione muscolare Quindi siamo tutti contenti Per la Salernitana Poi che è successo Kamenovic Vabbè è stato ufficializzato Rimandato in prestito Al Kukaritsky E Silvio Proto Si è svincolato Insomma Quindi questo è Quello che succede Rimangono un po' In mezzo Al Minala E Guerini Che non sanno appunto Dove andare Troveranno una sistemazione Forse Ma va bene così Sì dai Speriamo che Prima o poi Riuscimo a darse via Tutti questi qua Che non si vuole prendere Nessuno Ma arriviamo Alla prossima giornata Di Serie A In cui noi andremo a giocare Con il Cagliari Il Cagliari Attualmente Diciottesimo Nella classifica Di Serie A Esatto Cagliari che non vince Da tre mesi Giorno più Giorno meno Una situazione Di classifica Come diciamo prima Proprio non ideale Sicuramente Inaspettata Male 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 E Cagliari attraversa Appunto Momento strano Qualche anno Che non gira Come dovrebbe girare Abbiamo preparato Un video sul Cagliari Che vedrete domani Quindi restate sintonizzati Comunque Di Francesco Che rimane Non viene esonerato Anzi Gli viene proposto Il rinnovo del contratto Agisce In modo interessante Sul mercato Vedremo come andrà a finire Però Domani C'è un'altra C'è il big match Della giornata Cioè Juventus Roma In cui noi In realtà Potremo andare a rosicchiare Qualche un punto O alla Juve O alla Roma Quindi Comunque finiscano Comunque finiscano Comunque finiscano in pareggio Una vittoria per la Juve O per la Roma Comunque noi Ci andrebbe bene Se ovviamente Riusciamo a vincere con il Cagliari Cosa che Dovrebbe essere abbastanza Tutto lì Siamo tutti lì Ragazzi Quindi Non dico Abbiamo da vincio a scudetto Ma intanto Rosicchiamo 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 terreno A chi Ci sta sopra Chi vorresti che vince Roma o Juve E prima di salutarvi Signore e signori Andiamo nell'angolo Del gossip Una notizia calda Calda No In realtà Non è caldissima Che calda non è Calda non è Però insomma Ci abbiamo messo Sta rubrica Angolo del gossip E va beccato Va beccato Ma soprattutto C'è questa cosa Molto simpatica C'è questo video È diventato mezzo virale Un video di città celeste Insomma Ci avete presente Durante Le cronache C'è sempre Terenzi Che esulta in questo modo E questa Durante la partita Con l'Atalanta C'era ospite Giulia Ragazzini Una modella presentatrice Molto molto bella Miss Europa Miss Hurt Miss Hurt Italy Insomma Degli ultimi anni Quindi insomma Una personalità Diciamo prorompente Per intenderci E è saltata all'occhio Oltre insomma Alle sue forme Esplosive Esplosive Devo dire E ad ogni gol Il suo talento Per applaudire Digiamo Nel battere le mani Esatto E manderemo Un Rvm Che super Gallini È divietta Sinistra Di Roma Lancio di Milinkovic Per Pereira Da 1 Lecce a 3 Il pirata Murici Speriamo di aver applaudito bene Ovviamente si scherza Giulia Si scherza Si scherza Ci dispiace anche Che gli hanno creato il telefono Quindi dai Giulia Siamo tutti con te Appunto Speriamo che Possa continuare ad applaudire Per ricordare Lazio Così tra l'altro Puoi anche imparare A applaudire bene Dunque ragazzi Grazie mille Per aver guardato Questo era il secondo episodio Di LSTG Speriamo vi sia piaciuto Mettete like Commentate Fate tutto quello che si deve fare Noi ci vediamo appunto domani Per un video focus Sul Cagliari Sulla nostra prossima Vabbè a stare in campionato Dopodiché Live Prepartita Postpartita E tutte le Le solide cose nostre Dai Forza Lazio Grazie mille